Salve a tutti, sono Aurora Tontonati e frequento il secondo anno di triennio della classe di Fagotto con la professoressa Rubet e lui è Giampaolo Diorio, frequenta la stessa classe al corso libero. Oggi eseguiamo un duetto per Fagotto e controfagotto in Sol Maggiore tratto dal metodo popolare Oggi per Fagotto. Oggi eseguiamo un duetto per Fagotto. Ringraziamo Music Free Space per averci dato la possibilità di pubblicare questo video. Grazie. 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 Grazie.